Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Lo sapevi che? E oggi parliamo di Marina Abramovic, nata il 30 novembre 1946 a Belgrado, artista ancora vivente, recentemente apparsa in un video di Jay-Z, che è Picasso on Art Performance, Short Art Performance. Allora, partiamo da Marina Abramovic, allora, Sagittario, perché se è nata il 30 novembre credo che sia Sagittario, quindi già questo è molto importante, no? In termini di, se credete, dell'astrologia, in termini di libertà e anche avventura, anche i Sagittario possono avere come qualità, ma lasciamo perdere da parte un secondo il segno, perché questa non è una puntata sull'astrologia. Andiamo avanti. Marina Abramovic, nata a Belgrado, in Serbia, da genitori che erano tutti e due nell'esercito, quindi ha avuto un'istruzione piuttosto rigida e severa, e tuttavia ha avuto la sua prima lezione di arte a 14 anni. E credo che da lì si sia un po' innamorata, perché da lì in poi farà l'Accademia delle Belle Arti a Belgrado, e poi ritornerà proprio dopo un breve periodo fuori la Serbia a insegnare proprio in questa Accademia, proprio insegnare quindi dal lato di professore, quasi subito dopo, una breve esperienza fuori la Serbia. Allora, dunque, nasce e ha questa istruzione particolarmente rigida e severa dai suoi genitori, ma dal 65 al 72 farà l'Accademia delle Belle Arti, dove si laurea, tiene il diploma, o mai dove ritornerà per insegnare subito dopo una breve esperienza all'estero. E questo è per quanto riguarda, diciamo, la prima biografia di Marina Abramovic. Allora, le sue prime opere. C'è una prima opera che si chiama Ritmo 10, che è quella in cui fa un gioco con i coltelli. In realtà sta sperimentando per la prima volta il suo corpo, la trasformazione del suo corpo in una performance, perché, se questo è definita anche la nonna della performance artistica, Marina Abramovic è sicuramente una donna interessante, affascinante. Nel suo inizio sperimenta con il corpo. Lo trasforma, sì, ma sperimenta con il corpo, perché tenta di farlo subito arrivare a un limite, di investigare quantomeno quelli che sono i limiti proprio del corpo. E si intravede questo, già nella sua prima performance, che era Ritmo 10, si intravede questo gioco di coltelli in cui c'è il rischio di ferirsi, ma questo apparirà immediatamente, immediatamente, sin dalle sue prime grandi performance. Per esempio, quella chiamata Ritmo 0. È una performance che avviene nello studio Morra di Napoli, dove Marina Abramovic è seduta e su un tavolo ci sono degli oggetti, oggetti misti, oggetti di piacere e oggetti invece di dolore. In questa performance dura circa sei ore. Le prime tre ore sono ore timide, in cui c'è questo girovagare, questo osservare ed essere osservata, e questo gioco, che però è ancora molto acerbo tra l'artista e lo spettatore. Ma le cose incominciano a escalate piuttosto velocemente. Perché dico questo? Perché per le prime tre ore gli osservatori si giravano soltanto intorno a Marina Abramovic, ma poi incominciano a tagliarle i capelli, poi incominciano a tagliare con delle lamette i suoi vestiti, poi a fargli dei tagli che sono sul corpo, e poi a un certo punto qualcuno arriverà anche a puntare una pistola carica, perché c'era una pistola con un proiettile sul tavolo, alla tempia. E qui c'è un movimento continuo, in cui parte degli spettatori rimangono neutrali, un'altra parte invece è quella più aggressiva, e un'altra parte è quella che interverrà proprio a difesa della Abramovic, e in un certo senso lei salverà la vita, proprio perché quando lei ha la pistola puntata contro, una parte di questi spettatori riesce a frenare questo tipo di ondata aggressiva, e quindi salvarla, e così si chiude la performance. Ed è una performance molto interessante, dove l'artista osserva, è arte se stessa, ma al tempo stesso è impossibilitata dalle sue stesse regole a rispondere. E c'è questo gioco dove si vede che evidentemente un uomo può uccidere molto facilmente un altro uomo, quindi la vita stessa può avere un valore molto ridotto se a un'altra persona vengono dati tutti gli strumenti, no? E quindi in questo gioco in cui Marina affronta le sue paure, il suo corpo è il mezzo attraverso cui questo viene sperimentato, in assenza dei limiti. Poi, da questa performance, che già ci fa capire il carattere della Abramovic, passiamo a un'altra performance, che è quella della stella a cinque punte, dove la Abramovic per purificarsi da quelli che sono i legami con il suo passato inizia questo rituale di purificazione che è tagliarsi, tagliarsi le unghie delle mani e dei piedi, tagliarsi i capelli, e piano piano queste unghie tagliate, piuttosto che i capelli, vengono gettate nel fuoco di questa stella a cinque punte. E poi la stessa Abramovic, cioè si siede all'interno di questa stella a cinque punte, ma qui succede qualcosa, qui il fumo le fa perdere conoscenza e sviene, e quindi non c'è più arte, ma c'è più l'incoscienza, proprio causata dal fumo delle fiamme. E anche qui si sperimentano solo con il corpo, ma in generale proprio con i limiti tra la coscienza e l'incoscienza. Art Must Be Beautiful è del 1975, e noi vedremo che questo concetto di sperimentazione non è ancora finito. In Art Must Be Beautiful c'è una performance più delicata, però anche un po' più concettuale, per esempio, no? Dove c'è sempre il corpo al centro, ma anche l'idea concettuale che si trasmette, no? In Art Must Be Beautiful Marina si spazzola i capelli, e ripete costantemente che Art Must Be Beautiful, ma la performance finisce con l'artista che si sfreggia il suo stesso volto. E proprio l'arte deve essere bella, e il significato dell'arte deve essere bella, che finisce con una parziale distruzione dell'artista. L'artista non esiste se non in virtù dell'arte. E quindi concettuale sì, ma al tempo stesso, anche se devo dire che questo era inevitabilmente già successo almeno nelle altre tre performance che abbiamo citato, inevitabilmente succede che la vita dell'artista non è vita, a meno che non sia arte, no? E quindi c'è questo legame tra vita personale e vita dell'artista che diventa arte se stessa, che è molto affascinante. e che si ripropone anche in un'altra versione, che è quella di Thomas Lips, dove ancora una volta troviamo una Marina Abramovic cercare di rompere delle barriere. Allora, prima delle barriere è anche in uno stato di ulteriore, se vogliamo purificazione, no? Per la simbologia degli elementi che usa nel suo rituale. prima mangia infatti un chilo di miele con un cucchiaio di argento, poi beve un litro di vino bianco, poi si prende una lametta e si taglia il ventre, formando nel ventre questa stella a 5 punti. Dopodiché si fustica e si mette straiata su blocchi di ghiaccio, mentre c'è dell'aria calda che va sullo stomaco e che le fa uscire ancora più sangue mentre il suo corpo piano piano si inizia a raffreddare. La temperatura del suo corpo si inizia ad raffreddare, no? E qui c'è tutta una simbologia che va dal caldo al freddo, il miele, la stella a 5 punti e questa idea, no? Di performance artistica dove il corpo diventa vitale, espressione e mezzo di concetti o di purificazioni. Ma anche una direzione che si inizia a intravedere e come la ritualità, e questo sarà più evidente più tardi, come la ritualità di alcuni gesti, come il mangiare, inizino ad essere parte delle performance artistiche, no? Come una specie di mindful che pone attenzione su ogni singolo gesto, su ogni singola parola. Ma ancora è troppo presto, quindi andiamo avanti. Inizia un altro tipo di relazione con il corpo, sempre molto esposto, ma in maniera diversa. In ponderabilia. E quando Marina Bravovich è l'uomo con cui, in questo momento, ha una relazione, Ulail, il fotografo tedesco, si mettono nudi, uno di fronte all'altro, no? All'entrata di una galleria a Bologna, credo che fosse questa galleria, e la gente deve decidere da che lato passare, se passare dal suo lato, quindi verso il lato femminile, o verso il lato maschile, no? Nell'imbarazzo di tutte le persone che entrano di fronte alla galleria. E poi un'altra opera artistica, che è un'altra installazione, che si chiama Rust Energy, dove Marina Bravovich tiene l'arco e il suo compagno, Olai, tiene una freccia che è direttamente puntata contro il suo cuore, no? E nel frattempo ci sono degli elettrodi, evidentemente, che registrano il battito cardiaco. E questa installazione dura moltissimo tempo. E quindi per moltissimo tempo c'è una forma di immobilità assoluta, da cui dipende la vita della Abramovic stessa, no? E c'è un battito che aumenta e rallenta, no? Ed è anche molto interessante. Si dice che quando due persone sono innamorate, anche il loro battito tende ad assomigliarsi, no? E quindi questo è assolutamente affascinante, no? Ma anche estremamente simbolico, no? Il fatto che Olai, in questo caso, abbia la freccia. E dietro tutto questo c'è un fortissimo allenamento fisico, fisico e mentale, no? Ancora superamento di limiti fisici e mentali. Con Olai avrà una relazione di 12 anni e nel momento della separazione, e questa è una cosa che, vi devo dire, ho trovato romanticamente molto affascinante, al momento è metaforica, è ritualistica, ma anche estremamente profonda. Perché al momento della separazione decidono di fare un viaggio, un viaggio di mesi, partono dai due punti della muraglia cinese e camminano fino a rincontrarsi in mezzo, no? A liberare delle energie positive in mezzo, in un abbraccio. E fanno questo partendo da due estremità diverse, no? Due estremità diverse che sottolineano la distanza emotiva, evidentemente, no? Che stanno affrontando l'idea della separazione e procedono al contrario, cioè non dall'unione alla separazione, come avviene nel caso di coppia, e quindi incontro, unione, separazione personale e artistica, che è quello che avverrà nella vita di Marina Abramovic, ma quello che succede è un incontro. Un incontro che fa presagire un altro incontro, quello che si otterrà molti anni dopo, più di due decenni dopo, quando lei, in un'altra installazione artistica, lei seduta al MoMA, dedica 736 ore del suo tempo, circa 8 ore, seduta a un tavolo per un tempo infinito, ma per un tempo poi che è dipendente dall'altra persona, e riceve, accoglie nel completo silenzio l'altra persona. E vi dicevo, presagisce l'incontro a la muraglia cinese, nel mezzo della muraglia cinese, presagisce qualcosa, perché proprio in questa installazione, che si avrà molto tempo dopo, nel 2010, lei rincontra Ulai, e quando lo rincontra, Marina, che era sempre stata molto in silenzio, composta, che prendeva alcuni secondi tra un spettatore e l'altro, per dedicare allo spettatore la più completa attenzione, quando vede Ulai, ci sono anche le immagini, le immagini che mostrano questo, si commuove, e tende le braccia. E questo è, insomma, il loro formale ultimo incontro, poi non sappiamo se nella loro vita personale qualcos'altro sia successo, ma insomma, molto affascinante, no? Vedere la trasformazione, e mettere in atto la trasformazione, forse anche prima che la trasformazione accada, succeda, no? Trasformare quello che è di negativo in positivo, che forse è una delle più grandi lezioni della vita. E comunque, ragazzi, andiamo avanti, e comunque, vi dicevo, da questo momento in poi, da West Energy, un po' le sue esibizioni cambiano, la sua arte trasformativa cambia. Qui ve ne menzionerò alcune. C'è una che è Dragon Heads, del 1990, dove la ritroviamo con, sulla testa dei pitoni di due, tre e quattro metri, affamati da due settimane. E poi un'altra performance, anche questa particolarmente potente, che si chiama Balkan Baroque. Nel 1997 le ha fatto vincere anche il leone d'oro. E qui Marina è seduta su tonnellate di femori e ossa bovine, che sono anche pieni di sangue, mentre li pulisce e canta costantemente delle canzoni proprio serbe. E sappiamo tutti che gli anni 90 sono stati anni importantissimi per la Serbia da un punto di vista politico-culturale. E quindi proprio questo è il richiamo poi della verratia nelle cui prime opere si era un po' dissociata. Ma anche la critica, la presenza di sangue, che lì è simbolica nella sua opera ma che è fortemente simbolica e che richiama alla pulizia etnica nei Balcani proprio di quegli anni. E proprio l'ultima opera è quella che vi dicevo dal 2010, l'ultima opera importante che ho da raccontarvi è proprio quella che vi dicevo dal 2010 dove spende quasi 800 ore. Quindi pensate a tutto l'allenamento che c'è nel rimanere fermo, imbombile, nel dare la concentrazione, ma anche la differenza dalla teatralità invece ha una conversazione più intima più intima fino al punto che questa conversazione si tiene completamente in silenzio. E quindi volevo dedicare questo video proprio a questa artista che ha appena compiuto 75 anni e quindi invitarvi a andare a vederla. E con questo è tutto per oggi almeno. e ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio di La Sapevica. Ciao ragazzi! Non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale, lasciare un like, lasciare un commento e a attivare la campanella per ricevere gli aggiornamenti di questo banale. Ciao!